Girolamo Fazio resta ai domiciliari. Il GIP Caterina Brignone ha respinto la richiesta di una misura cautelare alternativa avanzata dai difensori del deputato regionale e candidato sindaco di Trapani. Intanto l'armatore Ettore Morace, anche lui coinvolto nell'operazione Mare Mostrum, relativa al giro di corruzione e favoritismi nel settore dei trasporti maritmi, è stato posto ai domiciliari dopo il parere del GIP di Trapani, lasciando così il carcere. Proprio su Morace e Fazio ci sarebbero nuovi retroscena contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare. A raccontarli è live Sicilia. Ettore Morace avrebbe pagato a Girolamo Fazio la ristrutturazione della sua abitazione, di un B&B e della casa della suocera del deputato regionale, dal rifacimento del bagno agli impianti elettrici, dai serramenti ai balconi. Il prezzo della corruzione, tale viene considerato dagli investigatori, ammonta a 105.000 euro, circostanze che si sommano alle assunzioni di persone segnalate da Fazio alla Liberty Lines, all'uso di una Mercedes, 10.000 euro per la campagna elettorale e biglietti per lo stadio e per le navi per le isole minori. A scoprire le fatture, i carabinieri di Trapani durante la perquisizione in casa di Fazio. L'interrogatore a Fazio è precedente al ritrovamento delle fatture, ma in passato aveva raccontato al giudice che si trattava di regalie, perché con Morace sono legati da un rapporto di amicizia. Due giorni fa, Fazio ha scritto di aver ricevuto 150.000 euro da Morace come premio per aver indotto la Ustica Lines ad agire in giudizio affinché la Regione sborsasse gli interessi per i ritardi nei pagamenti. Il GIP ha poi sottolineato che l'onorevole, in quanto non dimessosi dalla carica di deputato regionale, potrebbe continuare a strumentalizzare per fini diversi dal perseguimento del pubblico interesse.